Le due tifoserie tengono in maniera particolare, duello che adesso ovviamente si sposta dalle tribune al campo, vedremo chi avrà la meglio. Con me come sempre c'è Daniele Adani, squadra in campo per questo match di club. Match che promette gol e spettacolo. Questo ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi eh. Le premesse per non annoiarci ci sono tutte, ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. La colpita di testa spedendo però il pallone fuori. Ma detto che era marcato bene eh, Pier, non era facile liberarsi e concludere. E buon lavoro anche dalla difesa in questa situazione. Turny. Pallone gestito male. Tony. O'Shea. Non va. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo. Da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. Piero occhio qui eh. Ci ha messo in corda e allontanato. Pallone gestito male. Crossa nel mezzo. Angolo battuto non bene. Occhio al suo movimento. Recupera una palla grazie all'ottima organizzazione. Intervento ruvido. Sarà punizione. Pallone gestito male. O'Shea. Traversione nel mezzo. Risultato che non cambia. Lascia partire il cross. Recupera il pallone in mezzo al traffico. Occasione per il vantaggio. Palo si continua a giocare. E c'è il gol. È l'errore del portiere. È la sua responsabilità. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Martinez. De Hach. Provano a farsi vedere in avanti. Grande intervento del difensore che risolve. Intervento decisivo. Può contare sull'aiuto dei compagni. Prova il tiro. Ribatte qui il tiro. Mette balle in profondità per il compagno. Sali la bandierina. C'è il fuorigioco. Azione che sfuma. In effetti ha anticipato la partenza di una frazione di secondo. Ma a mio avviso ha ben poco da rimproverarsi. Si butta in avanti. Fondamentale il difensore. Martinez. La passa dietro per il compagno. Grande recupero difensivo. Non c'è ne complicata. Alzano il pressi. Il pallone è uscito. Si ripartirà con una rimessa laterale. Prova a metterla in mezzo. Recupera un gran pallone. Occhio alla conclusione. Deviazione provvidenziale che evita un gol fatto. La mette in area. Evita guai. Punta la porta. Non lo chiude nessuno. Cerca il secondo palo. Portiera attento qui. Va in presa. Ed evita guai. Tony. Vuole il lancio lungo, pericoloso. Difensore che terma tutto, sfuma il tentativo avversario. Turning. Palla persa. L'Adezzi. Pallone interessante in area. Perde palla. Ha spazio per avanzare. Senza problemi qui per la difesa. Amsic. Conclusione che non sorprende il portiere. Chance da calcio all'angolo per raddoppiare il vantaggio. Cerca il secondo palo. Attenzione, pericolo. Tentativo bloccato. Palla ancora viva. Occhio all'accelerazione. La gira verso il compagno. Portiere chiamato in causa qui. Cerca il pallone profondo. Cerca il pallone profondo. Nell'ultimo quarto d'ora. Prestazione importante la loro, eh. Ho perso il conto delle occasioni, Pier. Per come stanno giocando la rete del raddoppio e l'aria. Eh sì, il pallone ce l'hanno sempre loro. Vediamo se sfruttano questa opportunità. L'intuizione era anche giusta, ma il lancio troppo profondo. Un minuto. Questa è l'entità del recupero. Si fa vedere in avanti. Pressing efficace. Attenzione, tre quarti avversaria. Non c'è più tempo. Finisce la prima frazione. No c'è più tempo. Applausi. Allora. squadra di nuovo in campo dopo l'intervallo primo pallone della ripresa ferma tutto e riconquista palla sulla tre quarti palla che spiove ed eccolo il gol del pareggio siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1 Martinez pallone che supera la linea di fondo ci sarà la rimessa del portiere Frizz Martinez ottimo intervento nel portiere guadagnano terreno, occhio cerca la porta ha provato a piazzarla qui fuori davvero di pochissimo Deac ha spazio per andare risolve con un intervento decisivo la mette in mezzo la mette in mezzo palla in rete, ha battuto il portiere il putteggio adesso è di 2 a 1 Martinez si mette bene sulla traiettoria Deac avanzano nella tre quarti avversaria recupera la parola la formazione avversaria ma l'interesse va a botta sicura e c'è il gol che reazione subito dopo aver subito hanno trovato la rete match davvero spettacolare almeno per i tifosi neutrali 2 a 2 risultato Tony Hager Lavezzi palla riconquistata dalla squadra avversaria Frizz Deac non bene qui il possesso palla si butta in avanti attenzione pericolo entrata con i tempi giusti questa avanza lungo la fascia può calciare in porta da lì sale la difesa scatta la trappola è fuori gioco manca ancora un quarto d'ora alla fine aumenta la pressione non si accontentano del pari sceglie la corsia centrale palla spazzata via provano uno degli ultimi assalti del match vogliono regalare il successo ai propri cucchioli Deac perdono palla è entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino Lavezzi Tony fa su il pallone fa ripartire l'azione occhio alla progressione nessun problema per la difesa che recupera ancora 300 secondi alla fine della gara palla vagante adesso Deac Martinez un gol a questo punto del match potrebbe rivelarsi decisivo tira buono l'intervento del portiere che salva il risultato qui potevano andare sotto eh Pier prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema la calcia in profondità e c'è la rete passano in vantaggio quando manca poco alla fine il tempo è dalla loro parte dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari c'è un minuto ancora da giocare gara che si chiude con il risultato che sorride la formazione ospite e sicuro Grazie a tutti.